Diciamo che abbiamo reagito a questa situazione che non ci era andato proprio tanto bene. Siamo state molto brave oggi a iniziare in situazione, a perdere, anche perché quando abbiamo veduto qui c'è un lavoro molto importante, perché è un lavoro molto affettato e invece è molto buono, ma guardate subito, sapendo questo, è veramente benissima di niente. Sì, si chiude la settimana molto intensa, tre partite nell'alto di sette giorni. Eh sì, è dura, perché non erano i tuoi vicini, bisogna anche respirare in dettaglio. E adesso per compiere l'ultima partita di settimana, e niente, non si tocca, non si tocca in casa. Tra l'altro davanti alle telecamere di High Sport, qui è un'occasione importante per dimostrare il nostro valore. Assolutamente, sì, è un'altra partita dove dobbiamo andare 150 per cento, quindi spero di più. E quindi prepararsi bene, anche se funziona la prima di contattarci, poi prepararsi bene e poi andare bene. Ok, grazie, Sera.